Buongiorno a tutti ragazzi, comuni e sono staff di www.letsplayfifo.it Link pagina Facebook e nel nostro sito in descrizione E oggi siamo qua con il proviamo, gli informi del team of the week numero 20 3 giocatori, settimana scorsa abbiamo saltato l'episodio perché sono in sessione d'esami E quindi la mia priorità è lo studio e poi fatalità mi si è anche rotta la scheda di acquisizione Ma ho risolto il problema 3 giocatori, li proviamo per la prima volta, una sola partita per motivi di tempo Perché vi ho detto finisco qua e devo tornare a studiare Una leggenda, due buonissimi giocatori Schneider, uno degli eroi del triplete, 87 di passaggio, 90 di tiro Un giocatore che mi pare l'anno scorso di aver veramente amato i suoi long shot Speriamo di amarli anche quest'anno Davanti nel ruolo che non è il suo, un po' come Schneider Perché per far quadrare la squadra mi sa che questa è una delle poche configurazioni Se non usare i 3-4-3 eccetera eccetera Comunque, davanti c'è Miroclose, uno dei miei idoli, un grandissimo attaccante Sebbene diventa vecchio sa sempre il fatto suo e la riesce sempre a mettere dentro Un genio sostanzialmente, peccato che giochi nella razza Infatti quando ho saputo che andava la razza mi sono pugnalato al cuore E poi dopo c'è il grande Neymar Junior Statistiche wow, sostanzialmente, 92 di velocità, 86 di tiro Qualcosa di incredibile Speriamo di poterlo sfruttare bene e di imparare ad usarlo E che dire, al posto di continuare a parlare per niente Faccio questa prima ed unica partita e speriamo di non prendere 4 Prossimo avversario, Fricadelle Bella squadretta Beh, Runei, devo ancora provarlo cazzo questa Devo ancora provarlo Allora partiamo subito Passaggio per Neymar che prova al volo Maria Allora Miro ancora per Neymar Sbaglia il passaggio Miro Allora ancora Caia Palla per Close Palla Close e si abbracciamo Prova al tiro Close E allora Miro per la velocità di Miro Mette in mezzo per Neymar che va di testa No, in verità non va proprio Ancora per Miro Miro poveretto Allora in mezzo per Miro di testa Niente Miro non ha ancora avuto la possibilità di andare di testa Ora si rischia Wow Tira cazzo Non sta a far finta Porca troia Ti ho detto mezz'ora fa Di tirare Ma vaffanculo va Ah ok Perché se prendevo Goi con un tiro del genere Giuro che E mettila Vai Candreva Vai per Miro Miro di testa Ma cazzo Miro vai di testa Finisce il primo tempo Allora ricominciamo e vediamo di Non avere strappissimi di lag Ho sbagliato Mamma mia che rischio però Ho sbagliato perché ho premuto il tasto del pallonetto ma Ha rischiato di venire fuori un gol strano Allora Miro Fai vedere che sei tu Fai vedere che sei il migliore Fai vedere che sei il migliore A tirare addosso i portieri Cazzo Allora vai di assist Grande Miro Vai di assist Perché Andreva E andiamo Metti in mezzo per Miro Che va di testa E fa gol Questa volta E fa gol Cazzo Grande Miro Il migliore Razzariana Vai Adesso tocca a te Neymar Fai vedere di cosa sei capace Mamma mia Guarda Così e così Via Miro Di testa Niente Allora ancora Chandal Che prova la botta da fuori Allora ci prova Parolo Ci prova Parolo E fa gol Ci prova Parolo E fa gol Ragazzi Grande Parolo Versione if per lui Dopo questa partita Oh sono un mona Grandi ragazzi Gran passaggio Di Close Di Close Con chi andiamo Con Wesley Con Neymar Oh mamma mia 93-92 Wesley Allora va Wesley di potenza Mamma Fuori di niente Uuuu Uia Fermalo Grande Che si mette davanti Muslera Ci mette il piedino Uuuu Giocateli classe qui Allora anche Miro No Palla alta Perché Andreva Che prova la botta al volo Proprio una botta Di merda Uuu Rigore Si prende un rigore Al novantesimo E allora A costo di prendermi Tanta merda Lo faccio battere Al giocatore Che si è visto di meno Dei tre In questa partita Wesley Snyder Che mi fa un pallonetto Verso destra Scusate Non volevo Palla larga In profondità Finisce la partita E vinciamo 4 a 0 Contro un giocatore Che a mio parere Io sono scarso Ma lui era Tanto 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 Scarso Yalur E' finita una partita Vittoria Ampia Contro un giocatore Che io ripeto Per l'ennesima volta Non sono per niente Forte Non so giocare Ma andavo via Veramente in scioltezza Con lui Perché Secondo me Era 20 volte Più scarso di me Comunque Tre giocatori Tre giocatori Su cui non posso Ancora sostanzialmente Darvi la mia opinione Perché purtroppo Oggi ho fatto Solamente una partita Per motivi di tempo Che sono preso Con la colla Gollo con lo studio Ma Abbiamo Neymar Ottime caratteristiche 88 di overall Lo sappiamo 92 di velocità Bene Quel 92 di velocità Piuttosto Mi sembrava Un po' machinoso Ma va bene E' un giocatore Che bisogna imparare Ad usarlo Poi 92 di velocità Neymar So che Sa quello che fa Poi Snyder È quello dei tre Che ha usato di meno In questa partita Ma comunque Ha dimostrato di avere Dei buoni piedi Ho fatto anche 3-4 tiri con lui 87 di tiro Tirava delle mine Allucinate Soprattutto dei bellissimi Longshot Avete visto il pallonetto Che ha rischiato di far gol 90 di passaggio Ottimo valore Poi l'ho provato In quel ruolo là Difficile Da spiegare Quindi E stessa cosa Per il ruolo di Miro Miro Un attaccante Da cui mi aspettavo Un grandissimo colpo di testa Penso non abbia quasi mai Preso un pallone In area di testa Il passaggio Non mi è piaciuto Adesso voglio provarlo Perché a me Veramente Close Piace un sacco Già dal 2004 Nel 2003 E poi Vabbè Germania 2006 Lì è esploso Mi è esploso Anche a me nel cuore E quindi È un gran giocatore E spero che sia Veramente forte Che sia un'icona Come lo è nella realtà Sebbene giochi Nella Lazio Comunque Se questo video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace E già domani Spero E penso Di poter portarvi La player review Di Neymar Poi arriverà quella di Close E poi quella di Schneider Che dire Grazie per seguirci Andre vi saluta ancora E ci vediamo ai prossimi video Bye bye